E' finito il Malox perché tutti quei comunisti sono andati lì con i mal di stomaco. Trump non ha vinto, ha stravinto. Con buona pace di tutti quelli di sinistra che stanno rosicando oramai da diversi giorni. Dovete sapere che nelle farmacie in Italia praticamente è finito il Malox perché tutti quei comunisti sono andati lì con i mal di stomaco. E' finita anche la vostra arroganza. Tant'è che oggi siamo qua a discutere delle relazioni tra l'Europa e gli Stati Uniti d'America. Peccato che lo facciamo mentre abbiamo in corso le audizioni dove una come la Ribera che si candia a essere vicepresidente della Commissione ha detto parole bellissime su Trump del tipo che è un'analfabeta. Ci sono proprio tutte le basi per solide relazioni e una sana comunicazione tra le diverse istituzioni. E avete perso, ha perso Kamala, hanno perso i democratici ma hanno perso le vostre politiche. Sull'ambiente, la vicinanza alla Cina, l'incubbio, eppure qua continuate ad arroccarvi sulle stesse identiche posizioni. Fermatevi, la vittoria di Trump non è una sconfitta, anche se voi la vedete come un incubo, è in realtà una grande, grandissima opportunità. Grazie.